Grazie a tutti. Grazie a tutti. La cosa è che quando vedo, per esempio, gli attori inglesi che parlano, o fanno finta di parlare in tedesco, parlano ancora comunque così, quindi comunque parlano inglese. E quindi quello che abbiamo deciso di fare invece di farlo in svedese. Vedete che è possibile mescolare le lingue, se guardate in Glorious Bastards vi rendete conto che questa possibilità c'è. E poi c'è un'altra cosa che ci doppiano ovviamente molto negli altri paesi, no? Quindi è una cosa stranissima, ma anche molto divertente vederti doppiato in un'altra lingua, appunto con questa vocetta, magari così che è assolutamente la tua. Siccome non ce la potevamo perdere, cioè prima di perdere questo divertimento, abbiamo deciso di farlo in svedese per dare di modo di doppiarci.